Il Papa Emerito, Benedetto XVI, mi ha incaricato di leggere la sua lettera personale. Questi collaboratori mi hanno poi anche aiuto e spero sia scusato. In proposito, mi ritorno di continua... Ho avuto grandi responsabilità della Chiesa Cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per gli abusi e gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ancora una volta posso solo esprimere, nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali, la mia profonda vergogna. Il mio grande dolore è la mia sincera domanda di perdono.